In Emilia-Romagna, a differenza di altre regioni italiane, a partire da fine giugno la crisi ha causato un forte calo delle imprese giovanili, risparmiando invece il primo settore, che attesta una crescita per l'agricoltura, silvicoltura e pesca. E quanto emerge dai dati del registro delle imprese e delle camere di commercio elaborati da Union Camere Emilia-Romagna, secondo cui la regione ha subito un calo del 4,9% e sono 1.500 le aziende sparite in un anno, mentre a livello nazionale ci si è fermati almeno 2,8%. La tendenza emiliano-romagnola risulta dunque più pesante di quella nazionale. Tra i settori osservati è quello delle costruzioni a determinare la tendenza, senza dimenticare l'industria e i servizi. In forte crescita invece l'agricoltura e la pesca, che registrano un più 2,7%. La flessione generale inoltre è dovuta soprattutto alle ditte individuali e la riduzione, fa sapere Union Camere, è principalmente da attribuire alla flessione molto ampia delle ditte individuali, anche se la contrazione è stata notevolmente più rapida per le società di persone. Le imprese giovanili aumentano solo in Basilicata, Sardegna e Trentino Alto Adige. L'Emilia-Romagna invece perde terreno nel campo giovanile, come il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, che registrano rispettivamente il meno 4,1%, il meno 3,2% e il meno 3,4%. L'Emilia-Romagna invece le contatta di tutelazione, il meno 3,5% e il meno 4,1%. L'Emilia-Romagna invece il meno 4,3% è successo nel least 4,1% di spiegt e il riferimento. Grazie a tutti.